Identificati altri due tifosi dell'Angri che nel pomeriggio del 15 settembre hanno aggredito una capotreno sul treno regionale che li stava conducendo a Mercato San Severino. Al momento di salire a bordo del treno, due individui appartenenti al gruppo, privi di biglietto all'atto del controllo da parte della capotreno, hanno strattonato e spintonato quest'ultima, insultandola con frasi ingiuriose ed espressioni volgari. I primi due soggetti furono identificati e denunciati all'autorità giudiziaria per violenza, resistenza e minacce a incaricato di pubblico servizio e sottoposti a DASPO dal questore di Salerno. A seguito di ulteriori indagini, gli agenti hanno identificato altri due tifosi che una volta saliti a bordo del treno avevano ripetutamente offeso la capotreno con frasi ingiuriose ed atteggiamenti di minaccia, spalleggiando l'azione violenta degli altri due tifosi. Si tratta di due ventenni, entrambi residenti ad Angri, uno dei quali con precedenti per guida in stato di ebrezza. Tutti e due dovranno rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria dei reati di violenza, resistenza e minacce a incaricato di pubblico servizio.